oggi vi faccio vedere il pezzo forse migliore della mia collezione si tratta di un randal 12 11 e il modello smithsonian il fodero è in pelle fatto in maniera eccellente c'è una piccola pietra per affilare la lama anche le clip sono marchiate randal il modello è un bowie in acciaio a carbonio con manicature in dischi di cuoio spaziatori tricolore fondello in acciaio a specchio come anche la guardia completamente a specchio il modello è enorme pesa 900 grammi è marchiato randal è un bellissimo bowie replica dello smithsonian originale che fu uno dei primi modelli della randal lo spessore di quasi 8 mm coltello veramente fatto in maniera eccezionale c'è una parte di controfilo anch'essa tagliente bellissimo veramente una cosa spettacolare spettacolare